buongiorno accumulare tesori in cielo questo è l'invito che ci fa oggi l'angelo al capitolo 6 di matteo i versetti dal 9 al 13 per una umanità che rischia di spendere tutte le proprie energie per cercare di mettere da parte tesori in questa terra e gesù stesso mette in guardia perché questi tesori terreni in fondo non fanno altro che arrugginirsi essere rovinati e poi magari rubati e quindi essere motivo di invidia di gelosia di scontro di guerra i tesori della terra se diventano il tesoro del nostro cuore portano divisione scontro violenza accumulare tesori in cielo significa spostare il nostro cuore laddove abita veramente la sua parte più bella e profonda il cielo significa la profondità dello spirito l'ambito dei significati andare laddove l'amore si pratica come senso della vita intera se si accumulano tesori in cielo allora il nostro cuore batte per le cose più belle e non ci spaventano i fallimenti e le fatiche di questa terra perché in cielo brilla il sole un sole che non ha mai fine un sole che non è oscurato da nulla un sole che nessuno può rubare una luce dunque che viene da questo sole e che dal cuore illumina anche l'occhio con cui si guarda la vita è bello scoprire che quando si ha il cuore in cielo i nostri occhi sanno guardare alla vita della terra con quella semplicità e profondità che rende meraviglioso ogni giorno ogni cosa anche le più semplici tante volte spendiamo la nostra vita a guardare con occhi foschi e tenebrosi i nostri fratelli li percepiamo come minacce come pericoli perché dobbiamo difendere i tesori della terra ma se il nostro tesoro in cielo non abbiamo più paura e allora l'altro la persona che abbiamo accanto quella che incontriamo quella che scopriamo nella novità e nella diversità non è più un pericolo ma un'opportunità perché è un fratello una sorella illuminati dallo stesso sole chi si lascia riempire il cuore dal sole che è nel cielo ha occhi limpidi che guardano all'altro e lo fanno sentire amato per la semplice ragione che non lo percepiscono come un nemico a noi la scelta passare questa vita a guardarci intorno con sospetto e con paura oppure illuminare questo nostro occhio perché tutta la nostra esistenza sia bella la scelta sta nel dove porre il cuore per noi cristiani lo sappiamo la rivelazione è venuta ma lo possiamo dire a tutti nessuno escluso in cielo c'è un posto unico e ripetibile per ogni persona che viene al mondo buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata